ciao a tutti allora eccoci col video sui la recensione dei prodotti corpo e capelli della fitocose se non avete visto il video precedente che quello sui prodotti visto vi lascio il link nel box informazioni in questo video vi farò vedere meno confezioni perché come vi ho detto in quello precedente sono prodotti che ho utilizzato da tanto tempo non ho più le confezioni perché molti prodotti utilizzati prima di aprire la pagina prima di aprire il canale però insomma ve ne parlo comunque perché li ho provati e quindi posso recensirveli allora un prodotto in suo subito sono tanti che sto ancora utilizzando perché c'è ancora un po è la lozione per piedi alla salvia astringente e anti odore da 125 ml e vi devo dire che è tantissimo perché ha un paio di quattro mesi è talmente liquido non ve lo faccio vedere perché è proprio liquido di colore bianco quindi si sarà una crema liquidissima e ne basta pochissimo sui piedi perché sennò insomma i piedi scivolano e quindi dura tanto costa sui 6 euro e contiene aloe ossidico di zinco è stato di salvia è stato di senza di bergamotolo senza di menta e mentolo effettivamente dà quella sensazione di freschezza io l'ho preso perché nel periodo estivo poi insomma lo metto anche in quello invernale mi piace durante il giorno mettere una crema a piedi che dia questa sensazione di freschezza più che di anti odore che insomma non ho grossi problemi poi la sera invece metto prima andando a letto una crema più corposa prima di questo ho utilizzato perché avevo trovato proprio all'inizio del passaggio al bio una crema dell'omnia botanica sempre per piedi quella una volta messa veramente dava una sensazione di freschezza bellissima questa un po' meno quindi purtroppo quell'altro prodotto non lo trovo più perché l'avevo trovato allo sham adesso non c'è più però insomma quando riuscirò a finire questo perché è interminabile ovviamente si sono andato un po' fuori 4 mesi di PAO però l'odore è ancora buono la consistenza è comunque quella l'effetto lo fa quindi non è cambiato nulla però quando la finirò penso che proverò altri tipi di creme diciamo da usare durante il giorno quelle proprio idratanti ne ho già altre e insomma ve ne parlerò in altri video ok allora poi ho la crema mani che vabbè distrutta e la crema mani e la cera d'ape questa è da 50 ml costa sui 5 euro e qua non c'è scritto comunque contiene cera d'ape burro di karité l'olio di girasole glicerina l'olio senza di limone l'olio senza di mercamotto e l'aloe sì è buona non era male non ungeva molto la cosa sicuramente negativa è questo packaging che veramente si rompe guardate io dopo un po a me piace anche portarmi le creme in borsetta non potevo più portarle perché da qua usciva la crema quindi ce l'avevo sempre avvolta poi in carta questo tipo è bruttissimo di packaging comunque sì è stata come vi ho detto nell'altro video è fitto così è stata la prima marca che ho provato e come prima crema che ho utilizzato insomma mi è piaciuta adesso uso anche altre perché veramente questo packaging è impossibile si spreca anche il prodotto dopo un po insomma ok allora poi ho utilizzato molte molte delle creme loro anticellulite rimodellanti allora qui ho come esempio la corporelle che da 200 ml costa 16 euro devo dire che effettivamente come creme diciamo corpo rispetto ad altre di altre marche hanno i prezzi più bassi allora questa quindi comunque è un bel barattolone che adesso poi andrò a riciclare e contiene aloe è stato di edera olio di girasole è stato di fucus burro di karité caffina è stato di centelle è stato di rosmarino quindi ha proprio gli ingredienti adatti alla insomma come anticellulite rispetto a questa però io ho provato anche la cellite nello stesso prezzo la stessa quantità mi è piaciuta di più quella quella differenza l'estratto tipo castano di edera proprio centella quindi ha qualcosa di diverso mi è piaciuto se dovessi proporre cioè consigliare questo e l'altra io indicherei la cellite n e perché comunque e sono tutte creme bianche non danno un effetto né di calore né di freddo sulla gamba si spalmano anche faccio cioè permettono di massaggiarla ma poi si assorbe e con la cilita n vedevo la pelle molto più compatta rispetto a questo ho provato anche il fandango n che proprio un fango anche quello cosa sui esattamente come questo 16 euro e 76 da 500 grammi che contiene argilla bianca olio essenziale di eucalipto di rosmarino le stati di edera centelle poca stano allora a me è piaciuto sembra proprio una crema da mettere sulla punto spalmare sulla gamba e poi tenevo lì coperta dalla pellicola sulla mezz'oretta e solo che è durata poco io ho provato cioè sto provando e ho provato fatte da me o comunque acquistate delle fanghe anti cellulita quello mi è durato mi è sembrato che fosse dato neanche un mese quindi proprio poco tenendo conto che non è venduto molti negozi online che come sempre nell'altro video vi ho detto che l'affitto cose i tempi di spedizione sono veramente lunghi lunghi quindi poi ho puntato su altri brand oppure ho iniziato ad usare l'argilla verde a farmi i fanghi da sola avevo provato anche le fiale e la crema e poi una volta settimana utilizzavo il fango ovviamente anche lo scrub solo le ferette erano 12 ferette ognuna di 5 ml e cosa sono sui 20 euro a me non sono piaciute intanto perché si assorbivano subito cioè non mi permettevano di fare un buon massaggio come per comunque mi permettevano le creme e noi sappiamo che sì la crema fa qualcosa ma fa molto di più un massaggio e poi non ho visto nessuna differenza quindi le ho comprate solo una volta mentre la corporelle la cellitene l'ho comprata un paio di volte poi insomma curioso ho provato anche questa quelle fiale l'ho presa una volta non le ho riprese più perché secondo me ero proprio uno spreco anche se avevano anche loro edra, cialtella, caffeina però insomma le ho ritenute inutili inutili ho provato quindi vi ho detto anche lo scrub che è quella alla farina leghe vigante e le mandorle e quello c'è in un barattolo a 100 ml costa 13 euro e sembra proprio una crimina bianca con dei puntini rosati ed è fatta con la farina di mandorle la farina di gelasole l'aloe ed è adatta corpo e viso allora per il corpo secondo me è troppo troppo leggera forse bisogna vedere proprio la pelle sensibilissima non era insomma secondo me tanto efficace almeno io non lo sentivo rispetto ad altri scrub io forse ho bisogno di insomma che l'effetto scrappate si senta di più l'ho utilizzato proprio sul viso che in effetti mi è piaciuta la profumazione mi è piaciuta tantissimo però non mi è durato neanche tanto quindi è stato un prodotto che poi non ho ricomprato non è brutto però secondo me è più adatto il viso che al corpo allora quindi poi per il resto ho provato anche come crema rassodante questa la crema rassodante per il corpo al ginseng sempre questo anche questo 200 ml costa anche questo sui 16 euro quindi insomma i prezzi sono un po standard tra i prodotti simili che questo contiene aloe glicerina burro di karité burro di teo teobroma si centella asiatica sono all'estate di rosmarino ecco anche questo io questo non l'ho utilizzato dove la cellulite ma nelle altre parti del corpo e allora ah lo so vabbè tutto sporco di di crema così e vi sto facendo vedere una cosa che non vi ho fatto vedere nell'altro video in realtà tutti i barattoli nella fitocose hanno anche questo coperchio non buttatelo anche loro c'è scritto anche nel sito loro tenetelo perché permette di conservare il prodotto una volta aperto molto più a lungo a parte il coperchio ovviamente che va sempre messo allora sì non so nenni nessi adesso se devo fare un paragona io sto provando una crema rassodante della fila della dell'antos quella mi sta piacendo di più come profumazione come consistenza non so mi sta dando qualcosa di più poi sempre non è che c'è una crema che veramente rassodi se non si fanno attività fisiche insomma però boh sì non sono non penso che questa ricompire non non è brutta ecco come crema non è niente di particolare passiamo ai capelli allora per i capelli in realtà io non sono rimasta tanto contenta allora l'unico diciamo testimone superstite di confezione è questo che lo shampoo al miglio per capelli sottili fragili e che tendono a cadere io ovviamente siccome ogni tanto queste fasi di caduta particolare dei capelli e comunque sono sottili ho detto proviamo questo è da 200 ml e il prezzo dovrebbe essere sui 6 euro insomma e questo contiene aloe glicerina inulina lavanda sì scusate stavo pensando anche l'altro shampoo allora perché ne ho provati due di shampoo della fitocose questo al miglio e quello al germe di grano per i capelli secchi allora che sì questo qua non mi è piaciuto neanche l'altro allora quello per i capelli secchi quello a germe di grano io non ho i capelli particolarmente secchi quello me lo faceva venire secondo me me li profaceva proprio stoppa l'ha provato anche il mio compagno praticamente l'ho scambiato per boh vabbè forse un'altra ragazza che oltretamente interessata poteva fare un effetto diverso i capelli ero un disastro questo non è che li ridi un disastro però non ho avuto niente non c'è ottengo molto di più da altri shampoo da altre erbe questo non mi ha dato di niente quindi no io gli shampoo non so va bene ho provati solo due ovviamente a fitocose ne ha tante però questi due io non li consiglierei avevo provato anche le fiale ristrutturanti al collagene vegetali anche quelle sono 12 bocettine ognuna per 5 ml che hanno essato di ortica aloe non mi hanno fatto assolutamente nulla anche quello mi sembra cioè io ho provato varie fiale insomma quelle no sono proprio da escludere costano 10 euro è vero che rispetto ad altre fiare quelle sono ecobio però no non mi hanno fatto niente tra i balsami o maschere visi io non ho provato l'alinissimo che a tutti piace perché in realtà da molte recensioni secondo me questo poi la mia percezione e deduzione non l'ho provata l'alinissimo secondo me è troppo ricca per i miei capelli sottili e grassi allora io ho provato l'attriticum balsamo proprio al germe di grano che io ho pensato vabbè comunque il germe di grano poi aveva l'olio l'ale insomma poteva andare bene anche per i capelli secchi non mi è piaciuto più di neanche quello è un prodotto nì sì un po' li districava però l'ho finita ho cercato di finire in fretta non è stato un prodotto che mi ha fatto impazzire un prodotto invece che mi piace tantissimo e qua abbiamo comunque finito con i prodotti i capelli è questo è la pasta all'acqua e ossico di zico che come vedete è un'altra qualsiasi confezione che compro ha il packaging orribile come questo per almeno rispetto alla crema mani non si non si rompe così tanto forse perché diverso il tipo di prodotto non lo so allora questo mi piace tanto costa sui sei anni da 50 ml e continuo ossico di zico glicerina l'olio di girassoli è stato di rosmarino perché è molto rinitivo assingente calmante contro i rossori io l'utilizzo nel post depilazione e quando in estate ci sono alcune parti del corpo dove sfregando per il sudore mi vengono rossori delle bollicine io la metto perché altrimenti veramente mi crea sollievo l'ho utilizzato anche contro le punture di zanzare io questo è anche comodo insomma per portarle in borsetta fino a che non si rompa speriamo che non si rompa almeno le altre due confezioni che ho preso poi non insomma hanno retto un po fino alla fine è ottimo quindi anche contro dopo puntura è uno di quei prodotti che secondo me è importante insomma avere in casa è un po un pronto soccorso ovviamente è raccomandata anche per per esempio chi ha i bambini il cambio pallonino che creano rossori e vari fastidi allora oltre questo diciamo l'ultimo prodotto di cui ho la confezione è questo che è il questo è un prodotto veramente recentissimo l'ho comprato quando sono stata a bologna qualche mese fa non mi ricordo esattamente forse febbraio comunque è il profumo all'acqua di monoi e costa sui 5 euro allora la cosa positiva è che ho scoperto che a me il monoi piace tantissimo ha una profumazione fantastica non avevo mai sentita prima fantastico e ha due fasi infatti adesso agitando lo sto agitando si sta non mescolando gli ingredienti perché ha aloe acqua glicerina e poi ha anche la parte oliosa che penso sia dato dal profumo il problema è che non dura nulla e forse l'avrò detto sì nel video dei flop che ho fatto non dura mi dispiace tantissimo perché buona profumazione forse dura di più un po di più utilizzato come spray e per l'ambiente quindi io si lo utilizzo un po sopra naturalizzare l'utilizzo molto più sui vestiti perché forse la dura un po di più come spray per ambiente però insomma mi dispiace forse vabbè è comunque un profumo all'acqua in effetti però se già io dopo dieci minuti mezz'ora insomma non lo sento più non vado a ricomprare un prodotto che insomma come ultimi prodotti vi voglio segnalare i solari io fino all'anno scorso ho utilizzato il latte solare o il latte solare alla carota quello con spf 27 e anche quello è da 150 ml costa sui 6 euro 7 euro quasi quindi costa anche poco per un latte solare quello contenuto di girasole burro di caritella aloe l'estato di carota a filtri uvia e uvb però solo filtri fisici infatti ha il biossido di tanio e l'ossido di zinco come filtri cosa gira allora c'è questa diciamo discussione in vari forum in vari negozi online tra filtri fisici filtri chimici chi funziona chi non funziona aspetti negativi positivi l'un dell'altro allora non vi sto a fare adesso qui tutto il discorso di renta i filtri vi posso dire che io con quei latti solari mi sono trovata bene erano realtà liquidi di una consistenza non molto corposa si stendeva facilmente quindi non so c'è chi dice che con i filtri fisici si scusatemi con i filtri fisici spalmare la crema è difficile no io non ho trovato tutto questo proprio non mi faceva scia bianca non non so io come al solito non mi mi sono messa insomma negli anni precedenti scorsi non sono stata molto al sole quindi sì mi sono un po arrossata io poi vabbè ho una carnagione chiara quindi si tendo forse un po più ad arrossarmi per diventare scuola dove stare tanto tanto tempo non ho avuto quasi tanto diciamo periodo di vacanze forse quest'anno spero di concedermelo un po di più comunque non ho avuto problemi non ho avuto scottature mi sono trovata bene adesso poi ognuno insomma fa le proprie scelte io quest'anno non vi ho ancora fatto il video delle dei prodotti si vi comprati ho preso altri prodotti che hanno anche filtri chimici per vedere la differenza però insomma io vi dico che con quelli mi ero trovata bene anche la profumazione era buona il mio compagno che odia mettersi le creme sono riuscita a fargliela mettere ovviamente dopo mi fai ma è un po unta però vabbè è una crema lui non sopporta nessun tipo di creme però bisogna proteggersi quindi lo costringo ecco io ho finito quindi questi sono stati due video fatemi sapere ecco se usate i prodotti fitocose se volete qualche informazione in più che semmai mi sono dimenticata di dirvi o se vuoi c'è qualche prodotto che particolarmente vi piace e io non ho provato e quindi ecco mi piace avere questi scambi semmai se poi il prodotto mi incuriosisce potrei provarlo anch'io ecco e quindi vi saluto e vi rimando ai prossimi video ciao